Volevamo dare durante questa serata la possibilità alle persone che venivano stasera di partecipare a questo laboratorio aperto. Dal 2014 questo negozio è diventato bottega scuola e in effetti noi volevamo iniziare a fare degli eventi una volta al mese in cui davamo la possibilità alle persone di venire qui dentro e provare questa esperienza di avvicinarsi al mondo artigiano. La mia mamma proviene da una famiglia di ceramisti abbastanza conosciuta, principalmente noi ci occupiamo della decorazione però facciamo anche tutte le fasi di lavorazione, si parte dall'argilla, dalla massa in forme fino ad arrivare a un oggetto finito. Grazie